Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradaria regionale in FIPRI rallentamenti per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponsano tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. A val traffico ferroviario il treno 18651 Pistoia Firenze sta viaggiando con 48 minuti di ritardo per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze riprendono il 29 luglio i lavori alla rete idrica in via Bolognese. Interessato il tratto compreso tra il civico 102 B e l'incrocio con via di Montughi escluso. Per lavori il servizio extraurbano di Atelier Toscana subirà delle modifiche di percorso per il collegamento tra Mugello e Firenze. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoverci in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città meropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!